Ciao a tutti collezionisti e collezioniste, benvenuti su LLKTV con questo figu pronostico ragazzi di Roma-Lazio quindi il derby della capitale e Juventus-Salernitana Ok ragazzi, Roma e Lazio sono lì a giocarsi l'Europa in questo derby Juventus e Salernitana ragazzi con ambizioni completamente diverse e Salernitana punta a salvarsi la Juventus e potrebbe rientrare anche volendo in corsa per lo scudetto quindi due match importanti per entrambi gli schieramenti sia per quanto riguarda la capitale sia per quanto riguarda Juventus-Salernitana anche se con ambizioni diverse fra Juventus-Salernitana comunque ambizioni per entrambe le squadre allora detto questo ragazzi mi raccomando scrivete sotto nei commenti il vostro pronostico di questi due match cliccate sul tasto mi piace, mi raccomando, date i fuoco a questo tasto mi piace cliccando, cliccando, cliccando poi iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella e seguitemi sugli altri social tra cui Instagram e TikTok io direi di iniziare ragazzi come al solito mettiamo qui al centro tutte le altre figurine e poi sotto gli stemmi le figurine relative iniziamo dal primo pacchetto e vediamo che cosa succede con questo figu pronostico prima figurina e poi vota del Torino quindi niente di fatto per nessuna delle squadre poi abbiamo del Crotone Mulattieri, Maric e Cargbo Ilic del Verona Pandev, Goran Pandev del Genoa, ex della Lazio e Kuluseschi per la Juventus che non c'è più alla Juventus comunque nella figurina c'è quindi 1-0 per la Juventus subito nei primi minuti Juventus 1, Sennitana 0 per quanto riguarda il terpia capitale ancora solo 0-0 andiamo con il secondo pacchetto e troviamo Colei dello Spezia tre giocatori del Vicenza di Av, Dalmonte e Meggiorini del Monza troviamo Mota, Ghikayar e Ciurra Lazzari della Lazio ed è 1-0 purtroppo ahimè per la Lazio che passa in vantaggio contro la mia Roma e poi troviamo degli stemmi della Serie C quindi al secondo pacchetto è Roma-Lazio 0-1 Juventus-Sennitana 1-0 andiamo con il terzo pacchetto e troviamo Forestieri dell'Udinese la formazione della Lazio purtroppo mannaggia la pupazza 2-0 per la Lazio del Venezia troviamo Aramu Anderson della Lazio e basta e basta e basta e poi troviamo Castrovilli della Fiorentina incredibile incredibile soltanto tre bustine stiamo già 0-3 fra Roma e Lazio e 1-0 fra Juventus e Salernitana andiamo con il quarto pacchetto ragazzi poi ci sarà la fine del primo tempo andremo a tirare le somme questa fine del primo tempo Tonelli dell'Empoli tre giocatori cittadelle sono Donnarumma Adorni e Benedetti Gosens e Arnatovic per quanto riguarda i top performance del Torino troviamo Piazza e Kalinic dell'Ellas Verona quinto pacchetto ragazzi che è quello che decreterà alla fine del primo tempo Ruggeri della Sernitana quindi Parigio della Sernitana incredibile ragazzi 1-1 Bellanova e Bettella per quanto riguarda la nazionale italiana poi troviamo Benevento Fulon Fulon e Boiacco e Letizia Viraschi del Genoa e lo Stem del Monzo quindi primi tempi ragazzi io direi abbastanza clamorosi perché il derby della capitale è tutto per quanto riguarda la Lazio purtroppo che sta vincendo 3-0 già nel primo tempo per quanto riguarda Torino quindi Torino e la Juventus è clamoroso perché la Juventus per adesso viene fermata dalla Sernitana sull'1-1 ok quindi per adesso il primo tempo è così andiamo con il secondo iniziamo subito con questa bustina al secondo tempo vediamo cosa esce fuori e troviamo Fusato della Roma che tra l'altro mi manca anche se non sbaglio come figurina quindi la Roma che accorcia le distanze in questo secondo tempo sul 3-1 a voi e a te per recuperare comunque perché la Roma recupera 3 gol comunque De Lufeo e Caldara per i top performance poi troviamo Henry per quanto riguarda il Venezia De Rune per quanto riguarda l'Atalanta e Olsen per quanto riguarda il Bologna quindi Roma che accorcia con questa sesta bustina e va sull'1-3 dai 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 io già sto in clima derby Tatarusano del Milan niente di fatto poi Pellegri Pinamonti per quanto riguarda la nazionale italiana poi Pereiro del Cagliari Carboni del Cagliari lo stema della Roma ed è 3-2 ragazzi la Roma che la riapre in questo secondo tempo la riapre e me fanno morire se fosse così me fanno morire se fosse così me fanno morire andiamo con un altro pacchetto ed è l'ottavo pacchetto quindi stiamo quasi per terminare questo questo figo pronostico e troviamo Grassi del Cagliari 3 giocatori da Cremonese sono Carnesecchi Sar e Ocoli del Cosenza troviamo Palmiero Carraro e Situm la Maglia dell'Empoli e lo Stemma del Benevento quindi ancora risultati invariati risultati invariati Roma 2 Lazio 3 Juventus 1 Salernitana 1 il risultato più clamoroso è quello di Torino ragazzi perché la Juventus viene fermata la Salernitana sarebbe clamoroso anche se non impossibile troviamo del Napoli Politano tra i giocatori dell'Ascoli sono Sabiri Buckel e Dionisi l'Avatar dell'Atalanta Teate del Bologna e Ramani del Napoli ultima bustina ragazzi ultima bustina che potrebbe significare pareggio per la Roma o sconfitta ultima bustina potrebbe significare o continuo del risultato che c'è tra Juventus e Salernitana quindi 1-1 o altrimenti la vittoria o per la Juventus o per la Salernitana più difficile la vittoria della Roma che sta perdendo quindi dovrei trovare due figurine della Roma per andare bene ma non è semplice anzi ecco qui ecco qua ecco qua annaccia la miseriaccia Patrick della Lazio ed è 4-2 Vram Diaz del Milan Farias del Cagliari non ci credo di Tacchio della Sernitana io non ci credo di Tacchio della Sernitana e lo stemma del Bologna allora se i risultati fossero questi significa che la Roma perde il derby io penso che muoio quindi penso che muoio quindi da lunedì non vedrete più video no sto scherzando logicamente però da infarto perché la Lazio che vinceva 3-0 la Roma che accorcia fino a 3-2 poi l'ammazzata con il 4-2 finale ma in una situazione del genere ci potrebbe essere il 4-2 perché a quel punto la Roma proverebbe di tutto per cercare di pareggiare il risultato e la Lazio proverebbe praterie per poter segnare 4-2 nel derby può succedere di tutto difficilmente tutti questi gol lo dico proprio con il cuore in mano difficilmente ci saranno tutti questi gol del solito nel derby di Roma si è visto raramente tanti gol anche se quest'anno con Sarri e Mourinho potrebbe essere un derby un po' particolare diciamo così dall'altra parte clamoroso a Torino la vittoria della Sernitana che sconfigge la Juventus 2-1 e addirittura rimonta addirittura rimonta non lo so se i risultati saranno questi o no staremo a vedere intanto voi scrivete il vostro risultato sotto nei commenti e se volete tornate dopo le partite per scrivere cosa sia successo su questi match io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti